Renato e Carosone, io sono Renato e Claudio e Carosone. Abbiamo finito? No, ancora no, una canzone c'è un'altra. E cosa facciamo Claudio? Scegli tu, dai. E cosa facciamo? Vogliamo fare quella bellissima canzone che aveva detto Antonio Delicatardo? Quella napoletana, tica, tica, tica. Un soldato di un avolato? Un soldato di un avolato? Non ci proviamo, senza garanzia però, eh. Garanzia non ce l'è perché non l'abbiamo provata. Comunque, se sbagliamo, non vogliamo fare più braccia di... No, ci applaudo di più, dai, dai, salve in famiglia, vero? Allora, prima che non si sa dire io, Giovanni, ci facciamo fare un bell'applauso, che dici? Allora ce lo facciamo fare prima perché dopo sbagliamo. Un applauso perché dopo non si sa. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 Claudio Ceraulo Giovanni Fusco, il tuo, lasciateci cantare per le vostre serate. Andonella di Cataldo, Andonella di Cataldo, vieni in mezzo a noi. Allora, io ti dico ancora un altro applauso per questa signora, Andonella di Cataldo, che ci ha permesso di stare tutti insieme anche stasera. Grazie a tutti, 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 ciao amici, grazie di cuore, Claudio e Giovanni, lasciateci cantare.